Signor Direttore Generale e Rappresentanti Permanenti, celebriamo i 75 anni dalla istituzione della FAO, la cui sede l'Italia orgogliosa di ospitare da ben prima del suo ingresso all'ONU e sulla scorta della precedente esperienza dell'Istituto Internazionale di Agricoltura, unitamente all'intero polo agroalimentare delle Nazioni Unite. Oggi anzitutto celebriamo un progetto, sconfiggere la fame, la malnutrizione e la povertà che le provoca. Ci impegniamo alla compiuta realizzazione dell'affermazione che tra i diritti fondamentali dell'uomo vi sia quello al cibo. In tutti questi anni, produttività agricola e sistemi alimentari, catene di distribuzione e programmi di educazione al nutrimento hanno consentito enormi passi in avanti. Ciò nonostante, il pensiero va ai milioni di bambini, donne e uomini che in troppe parti del mondo ancora stentano ad avere accesso a beni di prima necessità, che soffrono la fame o rischiano di precipitare nel dramma della insicurezza alimentare. Una condizione che cambi climatici e conflitti con le forzate emigrazioni che ne sono derivate e adesso la pandemia hanno ulteriormente aggravato. Si stima che nel 2020 soltanto, circa 100 milioni di persone in più vivano al di sotto della soglia di povertà. È questo un momento di scelte decisive per l'intero pianeta, di un serio impegno globale basato sul riconoscimento del valore dell'attività agricola, sull'uso responsabile delle risorse naturali, sulla preservazione della biodiversità e degli ecosistemi, sul rafforzamento e la sostenibilità dei sistemi agroalimentari di ciascuna comunità, al fine di assicurare un'alimentazione sana e sufficiente. Il tema di questa giornata è coltivare, nutrire e preservare insieme le nostre azioni sono il nostro futuro. Una consegna che rimanda all'imperativo di lottare per preservare la vita in ogni angolo del pianeta, affrontando e superando le persistenti diseguaglianze. Per tutto questo abbiamo soltanto una strada, lavorare insieme. È cresciuta la consapevolezza che è necessaria una piena cooperazione internazionale, che costruisca la creazione di sistemi alimentari sostenibili, con il contributo di attori pubblici e privati, di individui singoli come di collettività. Il premio Nobel per la pace attribuito al Programma Alimentare Mondiale è chiara e apprezzata indicazione in questo senso. Tutti siamo chiamati a perseguire, insieme, con coerenza e con determinazione, atteggiamenti che concorrono all'attuazione dell'Agenda 2030. Saluto in particolare l'impegno della FAO e il suo direttore generale, Chiu Da Niu, che insieme all'Italia e a numerosi altri Paesi, hanno voluto dar vita a una coalizione per il cibo, con l'obiettivo anche di contenere gli effetti del Covid-19 sui sistemi alimentari. Un'alimentazione adeguata ed equilibrata deve essere alla portata di ciascuno e il cibo, insieme al suo antico e scindibile legame con le culture, la tradizione e la terra, deve essere considerato materia nobile, da salvaguardare, combattendo l'odiosa abitudine dello spreco, che purtroppo ancora contraddistingue sovente le regioni più ricche del pianeta. L'auspicio è che la comunità internazionale ritrovi il senso profondo dei beni preziosi che la terra ci offre e la responsabilità di condividerli e di custodirli per le future generazioni.